Continuano anche sul territorio provinciale le iniziative dedicate alla campagna nazionale Nastro Rosa per la sensibilizzazione contro il tumore al seno. Un'iniziativa ripresa a livello locale dalla Lilt Belluno, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in sinergia con ADOS, Associazione Donne Operate al Seno di Belluno. La campagna incentiva naturalmente l'aspetto della prevenzione. C'è la prevenzione primaria, ovvero tutto quello che è in nostro potere per poter fare in modo che il tumore vada da un'altra parte e non colpisca noi. E quindi stili di vita corretti, evitando l'obesità, aumentando il consumo di frutta e verdura, la cosiddetta dieta mediterranea, evitando anche di avere stili di vita voluttuari come il bere alcolici e il fumare tabacco o altre modalità di fumo. Per quanto riguarda invece la prevenzione secondaria, ricordiamo che assolutamente bisogna fare ogni sforzo per aderire alle campagne promosse dalle realtà sanitarie locali, in questo caso dall'Ulsuno Dolomiti, che ben serve il territorio provinciale attraverso l'offerta di percorsi dove la mammografia e l'esame cardine. L'invito recapitato al proprio domicilio per le fasce di età interessate da questo screening, cioè da questa selezione, come dice la parola, è proprio finalizzato e è vincente nel momento in cui c'è la massima adesione. La fascia di età tradizionalmente chiamata va dai 49 ai 69 anni, ma adesso c'è la possibilità da qualche anno di poter, su richiesta motivata anche da parte del medico curante, aderire anche più precocemente utilizzando gli strumenti messi in atto dall'azienda sanitaria locale, quindi già dai 45 anni. Secondo i dati recentemente diffusi dalla Regione Veneto, la quota di partecipazione delle donne venete ai programmi di screening del 78,6% contro il 59,6% della media nazionale.